Allora, benvenuti a tutti, a quanti riconosco e a quanti invece non conosco, a questa settimana sugli atti degli Apostoli. Un testo su cui mi sono interrogato su come procedere per presentarlo, perché il testo è molto lungo, di più, come vedremo già questa sera, è nient'altro che la seconda parte di un'opera unitaria che andrebbe letta tutta insieme. Normalmente quando noi iniziamo a leggere un libro non iniziamo da metà, iniziamo dall'inizio. Atti degli Apostoli è la seconda parte di un'opera nata unitaria e probabilmente vedremo separata quando è stata inserita all'interno del canone, quando il Vangelo, cioè quella memoria di Gesù, è stato associato agli altri tre Vangeli per formare il Vangelo quadriforme e gli atti degli Apostoli sono stati messi dopo i Vangeli e prima delle Epistole di Paolo, proprio per formare un po' quel contesto, il contesto ecclesiale in cui si muoverà Paolo con le sue lettere alle Chiese. Mi era per fin venuta l'idea di dire, ma insomma, leggiamo il testo e lo leggiamo dall'inizio alla fine, facendo io mi limito a fare delle glosse, delle spiegazioni qua e là. Poi mi rendo conto che questo richiederebbe, porrebbe altri problemi, ecco. E allora procederò in un modo più tradizionale. Oggi, questa sera, mi limito a dare delle indicazioni di fondo su che cosa sono gli atti degli Apostoli e anche come leggerli, ovvero la domanda di fondo sarà che tipo di storia è quella che è narrata negli atti degli Apostoli. Da domani, invece, inizieremo a leggere dei testi. Inizieremo dai primissimi capitoli, che sono assolutamente ineludibili, fondamentali. Al tempo stesso dovremo poi fare delle scelte di testi significativi. Seconda premessa, abbiate pazienza, ma come sempre succede, il primo incontro è il più noioso. È il più noioso perché è il più difficile, forse perché ancora non entriamo direttamente nel testo, ma credo che sia essenziale, ineludibile, porre alcune premesse per capire di che materiale si tratta quando prendiamo in mano questo testo. Quindi abbiate un po' pazienza, anche capisco che magari alcuni di voi sono appena arrivate, stanchi, accaldati, eccetera, abbiate pazienza con me per questa sera. Da domani dovrebbe essere tutto molto più in discesa e semplice. Allora, gli atti degli Apostoli. Credo che sia noto a tutti che gli atti degli Apostoli rappresentano un libro assolutamente particolare, anzi unico, nel panorama del Nuovo Testamento. Direi di più, nel panorama dell'intera letteratura cristiana delle origini. Perché? Perché gli atti degli Apostoli costituiscono, l'ho già accennato, la seconda parte di un'opera unica di un autore che chiamiamo Luca, perché è la tradizione che lo chiama così un autore unico che prima ha scritto un Vangelo e indubbiamente tra i Vangeli quello di Luca è quello che più assomiglia a una biografia di Gesù. E poi vi ha aggiunto la storia della nascita, della crescita, della diffusione del movimento cristiano. Ora, questo è davvero molto strano e unico. Non abbiamo nessun autore che ha pensato a un'opera così complessa. e così articolata. Di unire insieme le memorie di Gesù e le memorie degli Apostoli. Quando, notate che quando io mi riferirò all'opera nel suo insieme, cioè Terzo Vangelo e Atti degli Apostoli, mi ci riferirò con questa sigla Luca Atti, che è appunto l'espressione ormai tecnica che viene utilizzata per indicare l'opera unitaria l'opera nel suo insieme Terzo Vangelo più Atti degli Apostoli Ancora, l'unità di autore cioè che sia stato uno stesso autore a scrivere il Terzo Vangelo e gli Atti degli Apostoli direi che è un dato su cui non c'è discussione è un dato assodato è un dato ormai certo è stato riconosciuto fin dall'antichità già il reneo di Lione intravedeva questa unità e a tutt'oggi l'esegesi direi che è univoca in questa affermazione tre sono essenzialmente le osservazioni che ci portano a dire che è lo stesso autore c'è un vocabolario un lessico delle espressioni tipiche e comuni ai due libri che dunque dicono che c'è una stessa mano dietro ma anche a livello di teologia sono molte le direttrici teologiche comuni al al Terzo Vangelo e agli Atti degli Apostoli di più l'elemento che più appare agli occhi e che ci porta a leggere i primi versetti di questi due testi noi abbiamo due prologhi nel Terzo Vangelo e negli Atti degli Apostoli che si richiamano in modo significativo leggiamo Atti 1 1 3 in cui si dice nel mio primo libro qui leggo dalla traduzione della CEI anche se poi ogni tanto dovremo fare delle come si dice dei cambiamenti nel mio primo libro ho già trattato Teofilo di tutto quello che Gesù fece e insegnò da principio fino al giorno in cui dopo avere dato istruzioni agli Apostoli che si era scelto nello Spirito Santo egli fu assunto in cielo egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione con molte prove apparendo loro per 40 giorni e parlando del Regno di Dio qui traduce ad esempio già nel mio primo libro in realtà in greco si parla di Logos nel mio primo discorso nella mia prima letteralmente parola dunque se vogliamo nella prima parte del mio discorso ho trattato di ciò che Gesù ha detto e fatto fino alla ascensione al cielo è interessante questa operazione con cui Luca unisce gli atti cioè la vicenda del cristianesimo nascente delle comunità cristiane al Vangelo come testimonianza di ciò che Gesù fece e disse fece e insegnò perché questo significa che la Chiesa ha un costitutivo fondamento cristologico è lì che lei nasce come luogo ambito e spazio in cui rivive e risuona ciò che Gesù ha detto e ha fatto ovviamente ormai per il tramite della testimonianza degli apostoli per il tramite degli apostoli costituiti testimoni proprio come dirà subito dopo il capitolo 1 versetto 8 degli atti degli apostoli costituiti testimoni del Cristo risorto dallo Spirito Santo ma riandiamo alla prima parte dunque del discorso lucano in Luca 1 i versetti 1-4 e leggo il prologo del primo Vangelo poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti che si sono compiuti tra di noi non è semplicemente successi tra di noi come traduce la C si tratta di un compimento di una profezia di una promessa c'è sempre dietro l'idea per Luca nel Vangelo come negli atti di un disegno di Dio di una storia di salvezza che si sta compiendo e appunto poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti che si sono compiuti tra di noi come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero servi della parola così anch'io ho deciso di fare attenzione ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato o illustre teofilo perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto è chiarissimo la come dire l'unità di stile di terminologia c'è uno stesso destinatario a cui questa opera viene dedicata questo illustre teofilo e insomma questo è un altro indizio che dice che atti degli apostoli e terzo vangelo hanno un unico autore insomma solo Luca questo è uno degli aspetti veramente più straordinari di questo autore ve lo ripeto proprio perché noi facciamo fatica a entrare in queste in queste percezioni e a capire in che cosa consista questa straordinarietà solo Luca ha scritto appunto un evangelo ripeto un evangelo molto simile il più simile tra i vangeli è una biografia e una storia apostolica nessuno dopo di lui l'ha fatto è l'unico in questo Luca che cosa ha fatto riflettiamoci un po' ha messo insieme la memoria di Gesù e la memoria degli apostoli beh come ha scritto l'esegeta Barrett di cui tra l'altro è uscito proprio adesso in italiano in due grossi volumi il commento agli atti ha scritto un primo nuovo testamento in miniatura Luca ha avuto quella intuizione che sarà ratificata dal canone neotestamentario quando il canone neotestamentario ci consegnerà quattro vangeli che contengono le memorie appunto di Gesù e poi ci consegnerà tutto l'insegna tutto il corpus delle lettere degli apostoli e in particolare di Paolo e in particolare dell'apostolo delle genti è proprio Luca che ha fondato questo principio euangelion evangelio più apostolicon l'apostolo che è la struttura fondamentale la come si dice lo scheletro l'impalcatura del nuovo testamento di più potremmo andare anche oltre la genialità di scusate di Luca è di aver accostato praticamente Gesù e Paolo che non si sono mai incrociati storicamente non si sono mai incrociati mentre Gesù era vivo egli ha saputo legare Gesù e Paolo che sono davvero le due figure i due elementi strutturanti e che tengono in piedi il nuovo testamento senza voler sminuire gli altri evidentemente ma ecco per Luca una anamnesi una memoria della storia fondatrice del cristianesimo quello che è gli atti degli apostoli lo vedremo essenzialmente stasera la nostra affermazione sarà quella ma che razza di libro è gli atti degli apostoli c'è niente che a vedere con le lettere non ha che vedere con non è un evangelo ben diverso dalla letteratura apocalittica come l'apocalisse è una storia certo una storia un po' particolare dovremmo capire che tipo di storia è è probabilmente nell'intenzione di Luca un racconto fondatore di un'identità il racconto che fonda una identità l'identità del cristianesimo di quel movimento che esce e si separa dal mondo giudaico dalla sinagoga allora questo è l'intento dunque di Luca il significato di questa sua opera così impegnativa perché vale anche la pena dire anche queste cose molto materiali se voi prendete il terzo vangelo e gli atti degli apostoli e sommate in tutto sono 24 più 28 52 capitoli il che corrisponde a un quarto del Nuovo Testamento quindi anche solo dal punto di vista strettamente statistico quantitativo numerico materiale è veramente impressionante l'opera lucana anche per quantità ebbene qual è il senso di quest'opera così lunga impegnativa è stata quella probabilmente di raccogliere in un unico scritto quello che i cristiani dell'epoca di Luca del tempo di Luca dovevano sapere sul loro passato e lì comprendiamo e ci torneremo di nuovo la funzione identitaria cioè capace di creare un'identità di questo scritto lucano Luca si rende conto sappiamo che Luca scrive intorno all'ottanta dopo Cristo vedremo che è una data cruciale questa per il cristianesimo nascente intorno all'ottanta dopo Cristo e si rende conto che le comunità cristiane che ormai distano 50 anni dagli eventi della morte di Gesù degli eventi della vita della morte della risurrezione di Gesù si rende conto che queste comunità cristiane hanno bisogno di radicarsi in una memoria hanno bisogno di avere una storia per potersi radicare in un'identità tanto più forte questo bisogno perché perché nell'ottanta negli anni ottanta è il momento in cui avviene lo strappo tra il giudeo cristianesimo tra il cristianesimo nascente e la sinagoga nei momenti di crisi quando l'identità è in crisi abbiamo bisogno di fare memoria del passato ecco che Luca coglie questo momento di crisi del cristianesimo nascente e si rende conto del bisogno di uno scritto lo scritto è proprio lì per creare un rapporto con il passato è un'opera di memoria che ci tramanda un'eredità e allora scrive Vangelo e Atti degli Apostoli come ciò che può costituire un aiuto potente per l'identità cristiana così minacciata in questo periodo così cruciale nel momento in cui i cristiani vengono espulsi dalle sinagoge la rottura con il giudaismo si fa netta e senza ritorno di più in tutto questo noi capiamo che Luca fornisce ai suoi ai cristiani delle sue comunità gli elementi essenziali per cui vivere con cui vivere la loro fede gli elementi essenziali della loro dottrina dell'insegnamento di cui vivono pensateci bene nel Vangelo abbiamo le parole di Gesù abbiamo anche tutto ciò che Gesù ha fatto e ciò che Gesù fece insegnò le parole di Gesù che per l'autore non sono semplicemente delle parole pronunciate un tempo ma delle parole che si riverberano sull'oggi delle parole che sono vive e vitali per il credente oggi ancora abbiamo tutti i discorsi degli Apostoli uno dei vantaggi che avrà questo schema che vi offro in fotocopi è proprio questo di mostrarvi i tanti discorsi di Pietro di Paolo soprattutto che costellano gli atti degli Apostoli e che rappresentano capite l'espressione un po' tecnica un meta-racconto cioè un discorso che dà il significato al racconto avviene un evento straordinario atti 2 lo spirito scende in forma di fiammelle sui discepoli c'è la Pentecoste ecco che c'è un problema di interpretazione la gente che dice lì dice ma cos'è sono ubriachi e altri ma no sono le 9 del mattino non ce la fanno essere già ubriachi a quest'ora qui e allora ecco il discorso di Pietro che interpreta alla luce della scrittura dell'Antico Testamento e dà l'interpretazione autorevole di ciò che sta avvenendo il discorso di Pietro è una interpretazione del fatto e quindi noi abbiamo parole di Gesù abbiamo discorsi degli Apostoli dunque discorsi apostolici e poi abbiamo che cosa ed è rilevantissimo negli atti degli Apostoli la rilettura cristiana delle scritture rilettura cristiana di quello che io chiamo scrittura è l'Antico Testamento ma appunto per gli autori del Nuovo Testamento non era l'Antico Testamento erano le scritture quello che noi chiamiamo Antico Testamento erano semplicemente le scritture al cui interno essi si ponevano al cui interno essi pensavano ed ecco che abbiamo questa rilettura cristiana all'ora delle scritture che li porta a elaborare una ad esempio cristologia se voi prendete gli atti degli Apostoli voi vedete che spesso l'Antico Testamento è utilizzato per costruire una cristologia il Salmo che ne so io il Salmo 2 viene che era un Salmo messianico in origine usato per l'intronizzazione regale del Messia viene applicato e riferito alla morte e risurrezione di Cristo e così via e poi ancora ci sono tutti questi elementi e c'è l'opera dello Spirito che viene che è contenuta tanto nel primo nella prima parte dell'opera di Luca quanto nel secondo tanto negli atti tanto nel terzo Vangelo quanto negli atti ecco Luca ha cercato di dotare la sua chiesa di ciò che aveva bisogno in un momento critico per rispondere al problema di identità che gli eventi tragici gli eventi veramente laceranti meglio di quel momento ponevano loro facciamo un esempio anche per noi è sempre quando siamo in una crisi profonda e di identità che abbiamo bisogno di riandare al passato di fare memoria di ciò che ci è successo di fare memoria delle nostre origini delle origini delle storie che abbiamo vissuto e è a partire da questo memoria del passato che noi riusciamo meglio a cogliere da dove veniamo chi siamo diventati nel frattempo e dunque ci possiamo meglio cogliere un racconto come quello degli atti lo si comprende bene fondamentalmente a partire da questo se voi volete non sarebbe difficile fare un'incursione nella prima parte del Vangelo Lucano quando voi trovate quel bellissimo racconto di Luca 5 1 11 la pesca miracolosa immagino che vi ricorderete è un racconto di inizio è il racconto dell'inizio della sequela di Pietro dietro a Gesù ma anche il racconto di una crisi è il racconto di una vocazione ma è il racconto di una crisi è il racconto di una grande vicinanza tra Pietro che dopo aver pescato tutta una notte non ha preso niente arriva Gesù gli dice getta le acque in mare adesso che è il giorno sole quindi non come dire le condizioni atmosferiche esterne sono sfavorevoli totalmente Pietro accetta di essere contraddetto nelle sue competenze di pescatore è di notte che si pescano di giorno e dice sulle tue parole getterò la reti sulla tua parola getterò le reti prendono talmente tanto pesce che non sa neanche più dove metterlo le reti rischiano di spaccarsi Pietro si rende conto signore allontanati da me io sono un peccatore e poi la promessa di Gesù da quel momento sarai pescatore di uomini questo è il racconto che noi facciamo dopo questo è un racconto dell'inizio di una storia è il racconto dell'inizio se vogliamo di una vocazione ma appunto l'inizio è tale quando c'è un seguito quando c'è un dopo quando è divenuto storia e soprattutto il racconto dell'inizio noi lo facciamo quando non capiamo più bene il senso di quel che stiamo vivendo anche a Pietro succederà quando nella sua sequela di Cristo che ha avuto lì il suo inizio si trova a rinnegare tre volte colui che aveva detto io con te andrò fino alla passione alla morte eccetera e poi di fronte a tre sconosciuti che gli dicono ma forse anche tu facevi parte del loro gruppo tu anche tu eri con Gesù diciamo io ho mai conosciuto quell'uomo non so neanche chi siano quegli altri in Luca 22 61 62 si dice il Signore si voltò guardò Pietro Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto dopo che mi avrai rinnegato tre volte il gallo canterà no com'è che era adesso mi ricordo più a memoria prima che il gallo canti ecco prima che il gallo canti oggi mi rinnegherai tre volte è uscito pianse amaramente è bello è bello è tragico perché è la nostra vicenda ma ciò che è stata una vocazione si è rivelata una crisi Pietro nel momento dell'incontro con Gesù ha scoperto di essere un peccatore ha scoperto la sua distanza con Gesù allontanati da me ha scoperto che Gesù è il Signore e tuttavia ha fatto fiducia alla sua parola a distanza di tempo Pietro va in crisi nella sua sequela nella sua fedeltà si è messo a seguire Gesù ma adesso lo ha rinnegato e che cosa succede succede che scopre a distanza di tempo la sua distanza da Gesù uscito se ne andò scopre di essere un peccatore pianse amaramente riconosce di essere davanti al Signore e la grande eredità su cui può continuare a ricominciare è la parola del Signore ricordandosi della parola del Signore uscì si pianse il suo peccato e così via ecco ma è interessante vedere come questo racconto di inizi viene fatto dopo a distanza di tempo quando c'è bisogno di rifare chiarezza nella propria vita personale ma anche collettiva di popolo ecco allora che cosa vuole dire il fatto che Luca e Atti sono due parti di una stessa opera vuole dire questo vi do tre conseguenze di questa affermazione finora riuscite a seguirmi sono cose un po' così insomma non ancora esattamente nel pieno del testo ma insomma sono necessarie per non fare una lettura veramente un po' troppo ingenua di questo testo allora se Atti e Vangelo sono un'unica opera questo significa che prima cosa Atti degli Apostoli andrebbe letto a partire dal Vangelo e con il Vangelo è evidente leggere insieme le due parti della stessa opera moltissime moltissime sono leggendo gli Atti degli Apostoli perché poi noi dobbiamo limitare a questo ho già fatto molte volte il Vangelo di Luca e anche per quello che quest'anno mi sono deciso a leggere la seconda parte molte allusioni e richiami lessicali al Vangelo sono nascosti nel linguaggio degli Atti nella trama narrativa degli Atti degli Apostoli se voi leggete ad esempio il testo di Atti 3 1 10 beh anzi facciamo così lo leggiamo cominciamo a andare un pochettino nel testo in uno degli episodi di guarigione che gli Apostoli operano uno dei significati di questo innesto degli Atti quindi della storia ecclesiale nell'Evangelo cioè nella vita di Gesù è che i discepoli sono chiamati a fare che cosa nella storia quel che ha fatto Gesù questo nella sua elementarità se ci pensate avrebbe delle ripercussioni straordinarie per la Chiesa oggi e sempre cosa ci sta a fare la Chiesa che non è una domanda malposta o maldestra o provocatoria che cosa ci sta a fare la Chiesa la Chiesa è lì per testimoniare un termine carissimo a Luca a Luca a testimoniare la presenza del Cristo ovvero a proseguire nella povera carne di quei poveri uomini che sono gli apostoli e poi gli evangelizzatori e poi i cristiani e poi noi è chiamata continuare ciò che ha fatto e detto Gesù Cristo come Gesù in Luca 24 ha spiegato la parola di Dio ai discepoli di Emmaus ecco atti 8 atti 8 Filippo che spiega la scrittura alle unuque etiope qui atti 3 versetti 1 10 abbiamo una guarigione si dice un giorno Pietro e Giovanni salivano al tempio per la preghiera verso le 3 del pomeriggio di solito veniva portato un uomo storpio fin dalla nascita lo ponevano ogni giorno presso la porta del tempio detta bella a chiedere le lemosina a coloro che entravano nel tempio questi vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel tempio domandò loro le lemosina allora Pietro fissò lo sguardo su di lui insieme a Giovanni e disse guarda verso di noi ed egli si volse verso di loro aspettandosi di ricevere qualcosa ma Pietro gli disse non possiedo né argento né oro ma quello che ho te lo do nel nome di Gesù Cristo in Nazareno cammina e presolo per la mano destra lo sollevò notate che questa è una simbolica di resurrezione di colpo i suoi piedi e le caviglie si rinvigorirono e balzato in piedi camminava entrò con loro nel tempio camminando saltando e lodando Dio tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio e riconoscevano che era quello che sedeva a chiederle le mosine alla portabella del tempio ed erano meravigliati e stupiti per quello che gli era accaduto ma per capire in profondità che cos'è avvenuto correrebbe leggere questo testo alla luce anche di Luca il capitolo 5 i versetti dal 17 al 26 dove c'è un'altra guarigione di un paralitico non sto a rileggere tutto il testo ma in cui viene portato anche qui un paralitico a Gesù ed è Gesù che a un certo punto dice le stesse parole che la pronuncia l'apostolo sul malato alzati e cammina ed è interessante questo se le stesse parole che ha pronunciato Gesù le pronuncia l'apostolo questo non significa semplicemente questo che cosa significa significa in verità che nell'apostolo che guarisce nell'apostolo che compie questa guarigione agisce la potenza stessa di Cristo tanto che si dice nel nome di Gesù Cristo alzati e cammina e lo vedremo spero questa sera è uno degli assi teologici che traversa gli atti degli apostoli la potenza della resurrezione che agisce nella storia ecco non sarebbe difficile vedere la quantità degli echi e delle risonanze tra atti degli apostoli evangelo prendete ad esempio come altro esempio la morte di Stefano e la morte di Gesù ma lo vedremo quando già arriviamo la morte di Stefano è imitazione della morte di Gesù e del resto è già la teologia di Luca la morte di Gesù in certo modo è imitabile e non a caso l'autore degli atti descrive la morte di Stefano con una serie di richiami assolutamente forti e pregnanti a ciò che Gesù ha detto e fatto quando lui è morto ancora seconda elementare conseguenza che deriva dal fatto che Luca Atti sono un'unica opera vi dicevo è un'opera molto lunga ed è una narrazione Luca è un grande narratore che ci ha lasciato un grande anche lungo racconto come emerge il senso in un racconto non siamo in una lettera non è un trattato teologico non è neanche una comunicazione di fede o nella fede a una comunità particolare come si dice il senso in una narrazione e beh bisogna essere attenti alla costruzione del racconto quindi la seconda cosa che vi sottolineo è il fatto che vi è una narrazione e il senso di una narrazione emerge attraverso la costruzione del racconto la anche la come si dice la costruzione dei personaggi la strutturazione dei personaggi la gestione del tempo e dello spazio che cosa vuole dire questo vuole dire che come dire che il l'autore affida alla narrazione e ai dettagli agli elementi che inserisce nella narrazione il compito di svelare il senso il lettore cosa dovrà fare leggere 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 e rileggere lasciarsi trasportare entrare nel racconto del resto leggere significa arrivare a respirare con il ritmo del racconto entrarvi dentro lasciarsene portare ma l'autore non starà a dirci questo è il senso di quello che Pietro ha fatto ovvero non è un teologo sistematico è altro di fronte un architetto non starà a dire ho fatto questo perché ma affiderà allo sguardo intelligente che discerne di chi guarda il compito di capire che a partire da come ha disposto gli spazi i volumi eccetera ha cercato di dare certi significati alla sua opera e infine terzo elemento gli attici narrano le origini del movimento cristiano sono la prima storia del cristianesimo come ha titolato daniel marguerà il suo ottimo il suo eccellente studio sugli atti degli apostoli la prima storia del cristianesimo non eusebio di cesarea il primo storico del cristianesimo ma luca ed è un inizio che nasce da dove interessante questo nasce dal dall'ascensione che è un elemento che troviamo alla fine del quarto del terzo vangelo e all'inizio degli atti ma l'ascensione è una separazione l'ascensione è una assenza il cristo fisicamente non è più presente negli atti eppure questa assenza questo vuoto questa morte crea una vita voi siete testimoni e c'è questa assunzione di responsabilità dei discepoli dolorosa com'è dolorosa ogni nascita voi siete testimoni potremmo dire che questo è il programma degli atti degli apostoli atti 1 versetto 8 veramente questa è la frase che vi dà il programma di tutti gli atti degli apostoli avrete forza dallo spirito santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a gerusalemme in tutta la giudea e la samaria e fino agli estremi confini della terra gli atti degli apostoli iniziano a gerusalemme passano in giudea arrivano in samaria capitolo ottavo siamo in samaria e arrivano fino a roma non penso che per luca roma sia gli estremi confini della terra c'è un come dire c'è un'ulteriorità nella lettera ai romani gli sognava di andare anche in spagna ma certamente nel mondo dell'epoca roma era il caput mundi era un po' il centro del mondo stesso ma appunto questo è il testo direi chiave il testo programmatico dell'intero dell'intero atto degli apostoli dalla ascensione dall'assenza fisica di gesù nasce possono nascere tante cose da un'assenza un lutto un lutto che non si arriva a elaborare a chiudere una nostalgia che obbliga a vivere come ostaggio del proprio passato può nascere una responsabilità di quel vuoto in quel vuoto io entro come testimone non non dimenticando anzi chi è il testimone il testimone è colui a cui è successo qualche cosa e vive segnato da ciò che gli è successo il testimone giuridico è colui che ha visto o sa delle cose e dunque le può dire ma il testimone è colui che vede ormai la sua vita segnata da un evento un incontro e io oserei dire che per il nuovo testamento il testimone non è tanto come a volte mi sembra lo si comprenda un po' nelle nostre pratiche più ruspanti ecclesiali colui che fa la sua testimonianza e dice quel che lui ha fatto e detto eccetera eccetera è una sorta quasi di esibizionismo o protagonismo ma è colui che suscita domande nell'altro a partire dalla qualità della sua vita a partire da quello che lui vive sente dice ed è soprattutto suscita domande nell'altro non è neanche colui che va a come dire a porre questioni a è colui che vivendo suscita nell'altro una domanda quel bellissimo testo della prima lettera di Pietro ce lo dice in prima Pietro 3.15 siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi chieda conto della speranza che è in voi pronti a rispondere quindi con una responsabilità della speranza che è in voi ma appunto sono gli altri a chiedere il testimone è colui che è fedele al suo mandato cerca di vivere l'Evangel cerca di essere quel che deve essere cerca di essere se stesso un cristiano fedele e questo susciterà la domanda dell'altro notate a volte si divide gli atti degli apostoli in due parti si dice beh inzitutto noi continuiamo a dire atti degli apostoli letteralmente il titolo sarebbe atti di apostoli ma anche perché essenzialmente anche se ci sono diversi apostoli sono poi Pietro e Paolo le due figure cardine degli atti e allora c'è chi suddivide gli atti degli apostoli in sostanzialmente due parti atti 1-12 come atti di Pietro e atti 13-28 come atti di Paolo io credo che non abbia senso questa questa divisione per più motivi che non è precisa le cose devono avere una certa precisione è innegabile che c'è una maggior rilevanza di Pietro nei capitoli 1-12 e una presenza preponderante di Paolo dopo però è pur vero che già nel capitolo 9 noi abbiamo una prima racconto della vocazione di Paolo ed è vero che più che atti di Pietro in questi capitoli 1-12 si narra delle origini della chiesa attorno a Pietro e al gruppo dei discepoli relativizzerei questa centralità e comunque credo che sia troppo schematica e non fedele a quella che è della narrazione lucana ancora quello che Luca vuole narrare è proprio queste origini del movimento cristiano e nei primi 12 capitoli c'è indubbiamente Pietro ma c'è anche un nucleo di apostoli così come attorno anche a Paolo ci saranno altri collaboratori apostoli grande domanda che genere letterario è gli atti degli apostoli qui ci sono le due cose più difficili che dobbiamo dire oggi e spero che riusciamo a farlo in modo semplice anche perché se risolviamo queste cose dopo il resto sarà tutto più facile io allora sono state proposte una quantità di ipotesi sul genere letterario degli atti degli apostoli una agiografia una apologia un romanzo e così via probabilmente chi ha parlato di storiografia a scopo apologetico cioè per difendere e sostenere le origini dei cristiani come volute da Dio eccetera va già un po' più vicino al vero probabilmente ma io opto e in questo seguo le ipotesi appunto di Daniel Marghera mi piace parlare degli atti degli apostoli come racconto di inizio racconto di origine questa è una definizione che risale un altro grande studioso anche lui svizzero Pierre Giber che ha individuato nella scrittura molti racconti che magari hanno anche tanti generi letterari al loro interno negli atti degli apostoli ne abbiamo una quantità abbiamo racconti di guarigione resoconti di viaggio eccetera eccetera teofanie e così via ma la funzione che questo scritto nel suo insieme svolge è quello di essere un racconto di inizio racconto di inizio un racconto di inizio per esempio è nella Bibbia Genesi 1 non ci vuole molto a capirlo ma anche Genesi 12 è un racconto di inizio anche Esodo 14 dove c'è il passaggio del Mar Rosso è un racconto di inizio che cosa contraddistingue un racconto di inizio e troviamo questi indizi anche negli Atti degli Apostoli il primo elemento che caratterizza un racconto di inizio è una separazione il racconto di Genesi 1 Dio creò separando separando costantemente Genesi 12 l'inizio della storia di Abramo e del popolo di Israele esci dalla tua terra e va separazione Esodo 14 si esce dall'Egitto per iniziare il cammino verso la terra promessa del resto anche il racconto della nostra origine nasce da una separazione nasce dall'uscita da un ventre materno e dal taglio di un cordone umbilicale dunque negli Atti degli Apostoli beh è evidentissimo negli Atti degli Apostoli c'è la separazione la rottura dalla sinagoga questo è un tema è un dramma che traversa tutto quanto il libro degli Atti questa è la rottura instauratrice se volete la frattura originante che da origine a qualche cosa secondo elemento dei racconti di inizio c'è sempre l'intervento della dimensione soprannaturale trascendente c'è questo intervento divino intervento di Dio che opera che separa le acque dalle acque che chiama Abramo ad uscire da che guida Mosè nel far uscire Israele dall'Egitto e così via quanti sono gli interventi di Dio negli Atti degli Apostoli Dio interviene a salvare i Suoi a liberarli quando sono in prigione la Pentecoste è un grande intervento divino la vocazione di Saulo il persecutore ecco l'intervento di Dio che suscita l'inaudito il persecutore il fariseo Paolo diventa addirittura lo strumento eletto per l'evangelizzazione poi visioni profezie ogni tanto c'è qualche terremoto sempre uno di quegli elementi che indicano l'intervento di Dio nella storia dunque interventi di Dio che operano questa separazione e che guidano la storia terzo elemento un racconto di inizio normalmente non narra la storia di un singolo se anche si interessa di un individuo come ad esempio in Genesi 12 c'è la chiamata di Abramo in verità intravede già una collettività un popolo in Abramo è già raffigurato il popolo di Israele quindi e qui da noi è evidente come negli atti degli apostoli si ha in vista una comunità si ha in vista la chiesa si ha in vista questa dimensione collettiva e comunitaria è la storia della nascita di una comunità ed è la storia di una identità collettiva che viene narrata attorno al gruppo dei dodici si crea pian piano un nucleo che si accresce sempre di più ricordate quante volte magari se avete in mente gli atti degli apostoli vi viene in mente sicuro se no se domattina avrete voglia di fare il compito che vi ho detto ma siete liberi di farlo o no troverete quante volte c'è questo accenno la comunità cresceva si accresceva il numero di coloro che aderivano alla fede e se Luca dire che in quel giorno vi aderirono in 3.000 in quell'altro giorno in 5.000 numeri simbolici evidentemente ma ciò che gli interessa è questa dimensione comunitaria che si viene costituendo c'è un gruppo che nasce da questa separazione grazie all'intervento di Dio acquisisce anche una dimensione quantitativa significativa c'è la crescita di un popolo quarto elemento beh la situazione che si crea con questa rottura iniziale ha un aspetto di novità c'è una novità che si presenta qui si pone tutto lo spinoso problema del rapporto negli atti tra se vogliamo Chiesa e Israele ma che possiamo già adesso sintetizzare nelle sue grandi linee comunque Luca sottolinea che è sempre e solo in dialogo se vogliamo anche in discussione anche in dibattito aspro con il giudaismo con la sinagoga che la Chiesa si sviluppa e arriva a crescere e a acquisire la sua identità la sua novità ma questa continuità la vedremo questa continuità Luca la ribadisce ancora il capitolo ventotto l'ultimo l'ultimissimo per lui è evidente che c'è una rottura con Israele ma rottura non significa dimenticare quello che c'era prima io posso anche dire che se anche sono nato disgraziatamente quasi 50 anni fa tuttavia l'origine da cui sono nato i genitori certamente sono molto distanti da me oggi e tuttavia quell'origine è in me è in me è un'origine perduta i miei genitori non ci sono più e tuttavia quella origine continua evidentemente ad abitarmi e certo c'è tutto il discorso di che cosa sono diventato io e chiunque di noi tra l'origine e l'oggi è così anche tutto sommato per sinagoga chiesa in rapporto alla sinagoga certo questa continuità lascia spazio una novità che è assolutamente evidente la estensione della salvezza a tutte le genti ai non giudei l'apertura dell'alleanza ai pagani la dislocazione di fatto del centro da Gerusalemme a Roma dice di uno spostamento che rende il movimento religioso che sta nascendo molto diverso dalla sinagoga lì c'è una novità evidente nel gruppo che sta uscendo dalla sinagoga dal giudaismo un quinto elemento forse un po' più difficile da cogliersi ma insomma è importante farne appena un accenno questo evento questa separazione eccetera è comprensibile mediante il rimando a un'origine ultima un'origine ultima che in definitiva è Dio ma Luca ci dice che tutto questo diciamo così che sta nel disegno di Dio è si traduce in due diciamo così matrici di senso diciamo così che Luca utilizza per scrivere gli atti degli apostoli ovvero il suo primo il suo vangelo e la scrittura cioè l'antico testamento secondo i settanta l'antico testamento greco cioè quello dovuto alla traduzione dei cosiddetti settanta che cosa vuole dire questo che Luca facendo tanti riferimenti più o meno impliciti uno non dice mai guardate che qui guarda lettura che io sto citando il vangelo suppone che il lettore conosca sappia fare questa ginnastica dagli atti al vangelo e a volte invece no appare evidente allusioni riferimenti citazioni dirette dell'antico testamento che vogliono spiegare ciò che sta avvenendo e dunque i vari fatti specifici ma poi soprattutto l'evento divino che accade e che porta questa a verificarsi di questa separazione al nascere e crescere della chiesa come frutto della parola di Cristo e della parola di Dio per ben capire ciò che avviene paradossalmente il credente deve radicarsi nella scrittura deve entrare anche lui nella scrittura il vangelo ma soprattutto la scrittura l'antico testamento sono una sorta di antecedente sia storico che letterario che aiuta il lettore a comprendere teologicamente ciò che avviene ciò che avviene non è un semplice fatto sociologico è un evento di Dio è un evento della storia di salvezza questo interessa a Luca ovvio l'ultimo elemento che questa tutto questo produce una posterità cioè nel racconto di inizio ciò che ha un inizio ha anche un futuro ovviamente e questo direi che si estende lo vediamo appunto nel crescere della comunità cristiana negli atti degli apostoli ma oserei dire lo vediamo anche nei destinatari del libro anche loro fanno parte di questo di questa posterità allora qual è l'intento di un racconto di inizio che vediamo essere questo qui gli atti degli apostoli è di dare una identità il bisogno di un'anamnesi di un ricordo del passato lo sentiamo dicevo già prima quando siamo in una profonda crisi forse ogni crisi è una crisi identitaria e abbiamo bisogno di capire meglio chi siamo cosa ci stiamo a fare dove stiamo andando è lì che abbiamo bisogno di fermarci riandare al passato capire da dove veniamo che cosa ci è successo finora per poter riprenderci in mano cioè ridarci una identità solida e questo avviene appunto nel momento della crisi quel momento dell'ottanta dopo cristo quando la separazione con la sinagoga avviene in modo lacerante ecco allora che luca scrive queste cose cercando di rispondere a queste domande da dove viene la comunità cristiana dove come nasce e così facendo egli come tutta la storiografia biblica ma direi in buona parte anche quella dell'antichità risponde mentre fa storia risponde a un bisogno dell'oggi a un bisogno mio oggi è essenziale questa storia dunque ai fini di una autocomprensione allora gli atti in quanto racconto di inizio ha una valenza identitaria viene fondata vengono aiutati destinatari a radicarsi in una identità in una memoria diciamo ancora una cosa almeno sul rapporto chiese israele una delle grandi tematiche di nuovo che traversano gli atti uno dei temi più spinosi e anche qui bisogna stare attenti perché i vari scritti neotestamentari ci offrono prospettive diverse non pensiate che il nuovo testamento ci offre organicamente un'unica soluzione un'unica visione un'unica pista ci sono espressioni ben diversificate di questo rapporto il rapporto tra la chiesa israele per luca va colta in questa dolorosa dialettica di nascita è come se anche le comunità cristiane si chiedono da chi esco da dove sgorgo da dove vengo qual è la mia origine ma anche a un certo punto è quello che si chiedono nell'ottanta dopo cristo dopo tanti anni ormai chi sono diventato a partire dalla mia origine c'è una origine da cui mi stacco ma che come dire origine resta aveva ragione il cardinal martini quando anni fa in un importante discorso a vallombrosa disse che per la chiesa oggi interrogarsi su israele sulle proprie radici ebraiche significa fare un discorso inerente alla propria autocoscienza alla propria autocomprensione è ovvio allora è vero israele è l'origine da cui la chiesa si stacca ma origine è e resta e anche per gli atti dove notate che ogni tanto c'è un ritratto anche ben negativo dei giudei i cristiani non possono parlare di sé senza parlare del giudaismo ma sempre dicendo la propria differenza prendete atti 28 l'ultimo capitolo abbiamo Paolo ormai giunto siamo nel contesto della passione del martirio di Paolo Paolo dopo il viaggio che lo conduce prima a Malta poi sbarca a Siracusa in Sicilia poi arriva su Pozzuoli poi arriva a Roma versetto 16 del capitolo 28 arrivati a Roma fu concesso a Paolo di abitare per suo conto con un soldato di guardia notate dopo tre giorni egli convocò a sé più in vista tra i giudei e venuti che furono disse loro fratelli e parla a lungo loro versetto 23 fissatogli un giorno vennero in molti da lui nel suo alloggio di nuovo di giudei della comunità romana e parlarono con lui alcuni aderirono alle cose da lui detti altre no ma è interessante che ancora alla fine nell'ultimo così nell'ultima pagina lucana il primo gesto che Paolo fa è giunto in un posto è convocare i membri più autorevoli della sinagoga e discutere con loro ecco si tratterebbe a questo punto di chiederci che razza di storia sia quella che viene narrata negli atti degli apostoli domattina ancora a 10 e mezza perché poi c'è la messa a mezzogiorno concludiamo riassumiamo questo discorso che non è banale perché certo qualunque storico che pigli in mano oggi gli atti degli apostoli gli dice beh se questa è storia io ecco chissà cosa sono ma è utile capire come Luca quantomeno si situi alla confluenza tra storiografia greco-romana e storiografia giudaica e dove è questo l'elemento decisivo quello che fa poi di Luca uno storico perché teologo detto questo e qualche altra annotazione cominceremo a leggere il brano e come il brano il testo come minimo domani leggeremo il capitolo 1 ecco io direi ci fermiamo qui a leggeremo 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 la sembra